Saluto, saluto, due fidanzati, fidanzato, fidanzata, lui mi sembra di Reggio Calabria, proprietario di un boxer Vi ho incontrati vicino al cesenatico, Tigrato, ha più o meno la vera stessa del mio Cacchino, hai capito? Va, allora chi se ne fa? Allora, basta, sei un bel cane, Tigrato con le macchie bianche Allora, ero col pandino Col pandino, ero col pandino, ero col pandino, ero col pandino, ero col pandino Sto andando a farvi un bagno Gazi, ascoltami a me, parliamo di cose serie Allora, Lancia Delta Integrale, non è, ascolta, non so se ci sono iscritti, speriamo Sennò chi se ne frega, alla fine, non è che me ne freghi poi tanto Allora, praticamente, Lancia Delta Evo, così via Quando sento parlare di numerazioni mi tocco i deretano Allora, anche un Rolex è numerato, ma chi se ne frega numerato Non numerato, raro, non raro, che categorie sono? Cioè non è che c'è una cosa vale e venduta Attenzione, il valore, una casa vale, villa certosa quanto vale Non è che se Berlusconi la mette fuori a X Non è che se un antiquario o una Madonna del 600 Che vale 100 mila, vale, vale, vale La mette fuori in un'asta o un quadro moderno, lo metti fuori Che vale, vai ad artefiera, vale, c'è uno scarabocchio, vale 100 mila euro lo vendi il giorno dopo Cosa vuol dire vale? A parte che il valore dei soldi, voi fate sempre confusione 50 mila euro non sono nulla Sì, non sono niente Per uno che ha i soldi 100 mila euro, per vacchi 200 mila euro, non sono nulla Nulla, nulla Non sono niente Puoi comprare mille di lancia delta integrale Evo 10 Se vai in Costa Smeralda C'è gente Che ha delle patacche al polso Che valgono come 20 appartamenti vostri messi assieme Cioè voi avete un concetto del denaro Che è ridicolo Il denaro vale in proporzione a quanto uno ne ha L'arte moderna fa dei prezzi folli E la gente se la mette in casa Così Per sfizio Perché gli hanno detto che il valore Anzi il valore è secondario Ti assicuro che per una persona ricca Il valore di un oggetto Quasi lo offende Tu quasi lo offendi A una persona ricca E chi è che compra di Stan Classic? I ricchi Quindi a me il valore di un'auto Me ne frega Tanto la compro di ricchi I ricchi hanno un concetto del denaro Sono schifati dai soldi Il vero ricco I soldi li fanno schifo Ok? Capito? Se la delta integrale valesse un milione La pagherebbe un milione E sarebbe anche contento Valesse Ecco c'è sbagliato io Il discorso di valore E' una roba che A parte che vabbè Sulle auto numerate Ma soprattutto sulle auto di alta epoca Se ne potrebbe parlare Di concetto di originalità Ok? Sulle auto di alta epoca Sono scoppiati degli scandali Anche sulle Ferrari Sono scoppiati degli scandali Ovviamente non è il caso di Gagio Che è una persona onesta Ti parlo di auto che valgono Tanti tanti soldi Se parlassimo di originalità Ci metteremo le mani nei capelli Perché purtroppo Faccio un esempio Un F40 Grazie a tutti Grazie a tutti.